Purtroppo stiamo subendo... Alessandra, un'invasione russa anche noi, proprio... Averti visto fuori aveva un senso. Ecco, pure, dategli pure il microfono, mi raccomando. Andiamo, andiamo... Che succede? Beh, insomma, non è che siamo proprio un luogo pubblico, diciamo. Sì, in questo momento lo siamo. Sono venuto da trovarti. No, no, per carità, è un happening, certo, lo fa da Milano con i suoi amici di Gazebo, è giusto che lo fai anche tu.